Il trackpad o touchpad presente sui notebook è un dispositivo di puntamento dotato di sensore tattile che consente di controllare il cursore o il puntatore del mouse. In caso di problemi o per un corretto funzionamento è necessario reinstallare o aggiornare il driver. Vai sul sito di supporto del .it slash support. Lascia rilevare il tuo sistema automaticamente dal sito. Poi clicca sul sistema rilevato per aprire la pagina specifica per il tuo pc. Scegli la scheda driver download ed espandi la zona di ricerca dei driver. Qui devi scegliere il sistema operativo che hai sul tuo sistema. Poi in categoria scegli mouse tastiera e dispositivi di input. Avrai il file con una dicitura che riporta HID, Human Interface Device. Scarica il file disponibile e una volta scaricato apri ed avvia il file. Segui tutti i passaggi per la procedura guidata dell'installazione e una volta completato clicca su fine validando il review del sistema per completare in modo corretto l'installazione. Questa stessa procedura vale per tutti gli altri driver di un sistema Dell o Alienware, ma trovi tanti altri video interessanti ed utili qui sul nostro canale. Ti invitiamo a dare un'occhiata alle nostre playlist e gli altri video. Abbonati per ricevere notifiche di nuovi video e fa i like se ti piacciono questi video di supporto in italiano. Ciao a presto!